La prima fattispecie è proprio una definizione. L'agrisolare permette di avere pannelli che permettono di coltivare, anzi hanno una doppia funzione di protezione di quello che viene coltivato sotto e quindi giustificano la loro installazione in territori che sono definiti agricoli, non a caso, perché devono vedere svolta l'attività agricola in quell'ambito. E quindi su questo c'è la possibilità di continuare a sviluppare energia solare derivante dal sole ma con la compatibilità con un settore produttivo strategico per il nostro governo, per il governo Meloni, agricoltura e pesca, sono settori strategici, irrinunciabili e quindi non sottraiamo terreno prezioso a queste produzioni per fare altro. Ci sono milioni di metri quadri per fare altro, bisogna si utilizzino quello e si pone fino anche dal punto di vista ambientale, come panorami, come impatto visivo a quello che poteva essere un rischio che veniva registrato da tutti. Perché passare in alcune aree di pregio che sono state scolpite dal lavoro dell'uomo attraverso il lavoro agricolo e vedere macchie nere che apparivano improvvisamente lasciava abbastanza stupiti. Certo, sulla carta dal 2021 questo problema doveva essere ampiamente risolto, ma lo risolviamo noi senza guardare troppo a polemizzare con chi non l'ha fatto in passato.